Non si fa quello che ti è facendo? Non si fa! Si fa? Non si fa! No! Non si fa! Cos'è qua? Qua c'è il caffè! Tu non lo puoi bere il caffè, capito? Non lo puoi bere il caffè! No! Gaia! Non si fa quello che ti è facendo! Si beve il caffè? Non ti beve il caffè! Ma! Gaia! No! Non si fa quello che stai facendo tu, hai capito? Non si fa! Non si fa! Non si fa! Ah non si fa! Ah non si fa! No! No! Perché sei una morella tu! Sei una morella! Non si fa quello che ti è facendo! Non si fa! Si fa! Non si fa! No! Non si fa! Cos'è qua? Qua c'è il caffè! Tu non lo puoi bere il caffè, capito? Eh! Non lo puoi bere il caffè! No! Gaia! Non si fa quello che stai facendo! Si beve il caffè? Non si beve il caffè! Ma! Gaia! No! Non si fa quello che stai facendo tu, hai capito? Non si fa! Non si fa! Non si fa! Ah non si fa! Ah non si fa! Ah non si fa! No! No! Perché sei una morella tu! Sei una morella! Ah non si fa! Ah non si fa! Ah non si fa! Ah non si fa! Grazie.